per la recensione di oggi ecco in arrivo il pacco da amazon vi anticipo subito che se utilizzerete il codice che vi lascio in descrizione avrete un 12% di sconto su questo oggetto questo oggetto è piccolo ma molto potente perché si tratta di un sistema di diagnostica per auto che si può collegare tramite interfaccia obd2 quindi on board diagnostic a qualsiasi tipo di auto all'interno della scatola oltre al nostro oggetto abbiamo il manuale in italiano quindi questo oggetto tramite il connettore dlc che il data link connector a 16 pin si potrà collegare al connettore diagnostico della vostra auto e tramite interfaccia bluetooth potrà essere interfacciato verso dei sistemi di rilevamento dati tipicamente utilizzando il telefono vi annuncio subito che con un oggetto del genere potreste risolvere anche qualche guaio di fatti ha la possibilità di intercettare dei codici di allarme che vengono generati dalla cintralina per esempio se la vostra auto accende una spia a causa di un falso allarme questo oggetto ha la possibilità di sovrascrivere l'allarme e quindi spegnere la spia in certi casi queste allarme possono essere falsi e addirittura fermare la macchina in ogni caso vi ricordo che è sempre bene verificare che poi non si tratti di un allarme reale il modello che stiamo guardando è il v06 h 4k che è la versione bluetooth 4 0 è compatibile con applicazioni che girano su ios android e windows tensione di funzionamento 9 16 volt fornita dal connettore dlc corrente assorbita di funzionamento 35 miliampere velocità di trasferimento 38,4 kilobit al secondo vengono supportati tutti questi protocolli quindi praticamente compatibile con qualsiasi tipo di auto la prima cosa che dovremo fare è scannerizzare il qr code col telefono e verremo ridiretti a un link dove sono disponibili i link per il download delle app compatibili con questo oggetto le tre principali sono obd auto doctor le tre principali sono obd auto doctor obd fusion e obd torque come prima cosa è necessario identificare il connettore obd all'interno dell'auto nel mio caso di una volkswagen to run questo connettore si trova all'interno dello sportellino vicino al volante riconosciamo il connettore dlc a 16 pin sarà sufficiente inserire il nostro oggetto a questo punto sarà necessario accendere il quadro dell'auto e l'oggetto verrà alimentato tendono sarà sufficiente spingere il bottone posto sul frontale vediamo che i led si accendono lanciamo l'applicazione obd auto doctor come prima cosa facciamo l'abbinamento del nostro dispositivo per cui viene ricercato un'interfaccia bluetooth e viene fatto l'abbinamento fra telefono e dispositivo sulla maschera principale dello stato abbiamo subito i dati per esempio questa è la temperatura dell'aria in ingresso velocità attuale e poi altre funzioni che al momento sono disabilitate la parte più interessante se accedo ai codici di guasto ecco che dalla centralina vengono letti i codici al momento zero errori zero spie per cui tutto regolare nel caso avessi un'anomalia mi verrebbe citato qui e io potrei fare il clear quindi potrei andare a spegnerla come abbiamo detto prima sul riquadro sensori ho la possibilità di aggiungere tutta una serie di sensori che sono legati ai dati acquisiti dalla centralina ed infine nella parte finale ho le informazioni dove se vado sul tag di centralina ecco tutti i dati della mia centralina elettronica ecco che se vado in moto vedo la velocità rilevata dal sensore e anche il giri motore sulla barra verde sul telefono lanciamo l'applicazione torca ad esempio dopo un disclaimer iniziale da procederemo all'operazione di abbinamento del dispositivo bluetooth vediamo ora l'applicazione torca che da un punto di vista grafico più accattivante qui a per esempio abbiamo il sensore della velocità qua abbiamo altri sensori come vuoto accelerazione e carico motore abbiamo la possibilità di personalizzare tutti questi pannelli ecco sedo gas giustamente il carico motore aumenta vediamo l'accelerazione questa applicazione permette di personalizzare i vari pannelli quindi andando su un pannello vuoto si in ogni momento fare aggiungi strumento e andare a selezionare fra la miriade di possibilità che offre la app tipicamente ad esempio i dati sul consumo dati di viaggio che sono ricavati dai sensori accelerometro e la parte di gps e vengono poi registrati in log sull'applicazione questa interfaccia diagnostica è obbligatoria su tutte le auto dal 1996 soprattutto ai fini delle emissioni co2 andando ad aggiungere il pannellino specifico si hanno tutti i dati proprio su questo aspetto anche qui abbiamo la possibilità ovviamente di gestire gli errori quindi abbiamo tutto lo storico gli errori in sospeso e ovviamente la possibilità di fare il clear di errori se lo riteniamo opportuno per i più nerd lascio nel mio portale questo pdf che dà le specifiche del protocollo bd2 in particolare viene definito il pinout del connettore 2x8 a 16 pin di tipo j 1962 quindi con tutti i significati dei vari pin a seconda del modello di auto possono esserci diversi protocolli che sfruttano o le linee can o le linee a bus 12 volt quindi a seconda del vostro veicolo questa interfaccia vi permette comunque in ogni caso di accedere alla centralina uno degli standard più diffusi è il can bus per verificare se la vostra auto è adottata di can bus potete tramite un multimetro misurare la resistenza fra i pin 6 e 14 che sono le linee can high e low in quanto sappiamo che la linea can è un doppino che lavora con tensioni differenziali siccome una linea can terminata da ambo i lati con una resistenza da 120 ohm se mettete un multimetro tra i pin 6 e 14 dovreste leggere il valore di 60 ohm in ogni caso consultate il manuale della vostra auto normalmente i livelli di segnale sulla linea can sono dell'ordine di due volte due volte e mezzo viceversa se avete un altro tipo di protocollo sulla vostra auto verranno utilizzate le altre linee pertinente al protocollo come la txrx di queste specifiche di tipo iso 9141 i codici di errore diagnostico si compongono di 5 cifre tipicamente sul portale vi lascio un documento che descrive appunto la composizione del codice e in pratica abbiamo il primo carattere identifica la parte dell'auto che è andata in fault poi abbiamo un campo che ci dice qual è il codice del costruttore dell'auto il terzo campo ci dà l'area del del errore ed infine gli ultimi due la descrizione puntuale dell'errore perfetto la recensione sul prodotto track pao finisce qui se siete interessati ad acquistarlo utilizzate il mio codice che avrete un 12 per cento di sconto vi lascio il link in descrizione ciao e alla prossima iscriviti al canale iscriviti al canale